Buongiorno a tutti, sono Luca Neaspidimbergo, responsabile commerciale di Aten per l'Italia. Siamo qui a sicurezza presso lo stand di Allnet, nostro partner per la distribuzione, per presentare alcune delle soluzioni di Aten che si sposano bene con progetti di videosorveglianza o sicurezza in genere. In questo stand stiamo utilizzando una delle matrici HDMI seamless, in questo caso la 8x8 per distribuire il segnale, ma questa matrice si presta molto bene anche per soluzioni tipiche di sale controllo in cui si implementa un video wall da 2, 4 o anche 16 monitor sul quale si veicolano segnali che arrivano da varie fonti come NDR, gestori allarmi o altre sorgenti ancora. La matrice permette di gestire il video wall utilizzando più monitor fisici per creare un unico schermo virtuale e vedere in grande formato le immagini che arrivano da una di queste sorgenti. Altra macchina interessante che ho portato qui è uno switch KVM, 4 ingressi, 1 uscita, che vediamo qui sopra, che ha la particolarità di permettere di visualizzare su un unico monitor fino a 4 sorgenti diverse, partendo da configurazioni quad view, quindi quattro finestre con le stesse dimensioni, fino a personalizzare il layout dell'interfaccia grafica avendo una finestra preferenziale e due o tre finestre più piccole ridimensionabili e posizionabili a piacere. L'operatore può accedere ai singoli sottosistemi semplicemente utilizzando combinazioni di tasti e movimenti del mouse. Completa la gamma di prodotti che ho portato qui a sicurezza, un sottoinsieme delle soluzioni di estensione che Aten ha a catalogo e ho portato alcuni classici extender KVM utili per remotizzare la postazione operatore e quindi lasciare in sicurezza la macchina che gestisce il servizio, per esempio la workstation sulla quale gira il software di video sorveglianza e lasciare all'operatore una postazione silenziosa, lontano dal PC, che resta quindi protetto anche da accessi non autorizzati. Qui la gamma è molto estesa, si va da soluzioni semplici con protocollo HDBaseT su cavo singolo fino a soluzioni più complesse che utilizzano il protocollo IP come mezzo trasmissivo e permettono maggiore flessibilità. Quindi si riescono a realizzare le classiche installazioni in cui pochi operatori gestiscono più server, o anche il contrario, dove un singolo server è accessibile da più operatori che gestiscono gli accessi concorrenti con varie modalità che si impostano sul dispositivo stesso. Per un approfondimento sulle soluzioni che Aten offre sia per il mercato della sicurezza che per altre applicazioni, vi invito all'evento che stiamo organizzando per il 1 dicembre a Milano in via Ripamonti presso i locali di D-Loft. Sarà una giornata a porte aperte durante la quale potrete vedere diverse soluzioni Aten, assistere a presentazioni che illustrano i vantaggi competitivi dell'utilizzo dei nostri prodotti e mettere mano praticamente ad alcuni dei nostri prodotti potendoci giocare e vedere come si configurano e come si utilizzano. Per le registrazioni vi rimando sul sito Allnet nella sezione Popsi. Buona giornata. Buona giornata.